Numerose operazioni di polizia giudiziaria nel 2016 che confermano l'impegno costante sul territorio gelese da parte dei carabinieri. Si è lavorato alla cremente per contrastare ogni forma di prevaricazione e gli obiettivi sono stati raggiunti anche se c'è tanto ancora da fare, lo dice il comandante del reparto territoriale, il maggiore Antonio De Rosa. L'ufficiale si sofferma soprattutto sul fenomeno legato alla coltivazione e al successivo spaccio di droga. Ci sono state rinvenute numerose piantagioni, in tutta l'area i sequestri sono stati veramente ingenti. Questo da un lato dimostra l'attività, la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, ma dall'altro ci fa sempre stare più attenti perché il fenomeno venga contrastato e non si possa diffondere. Il maggiore De Rosa parla anche degli incendi dolosi in città. C'è stato un calo negli ultimi anni, quest'anno ci siamo attestati grossomodo su quelli dell'ultimo anno. È un fenomeno abbastanza annoso, è chiaro che è molto attenzionato da parte nostra e dalle altre forze di polizia perché è comunque un indice che fa tenere alta la tensione e che comunque sia può essere utilizzato anche per distogliere da altre attività. Stiamo focalizzando l'attenzione sul fenomeno per cercare di contrastarlo adeguatamente. Si lavora per il prossimo anno che è appena cominciato, quali sono i propositi? I propositi sono sempre assolutamente positivi, stiamo già lavorando per tutta una serie di attività che sono in tenere sia nel breve termine che nel lungo termine. Stiamo parlando sia di attività che riguardano la criminalità organizzata, sia attività che riguardano la parte patrimoniale, fino ad arrivare anche all'attività di contrasto spicciolo della criminalità comune, che è quella più percepita sul territorio. Ma lavoriamo anche tantissimo per quanto riguarda l'attività di prevenzione, sono in corso contatti con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per un sempre maggiore contatto e per una nuova visione della figura delle forze dell'ordine e degli operatori sociali perché puntiamo molto su un fattore culturale in prospettiva futura. Ci sono già numerosi disoccupati, o anche in merito alla chiusura dello stabilimento, non vorremmo che poi fossero appetibili da parte della criminalità? Il rischio quando c'è la disoccupazione, quando ci sono situazioni del genere, c'è sempre. C'è da dire che a livello politico si sta lavorando per cercare di trovare una soluzione, che è uno dei problemi più annosi. Per quanto riguarda noi, abbiamo registrato più che altro una grande uscita di cittadini da Gela, quindi abbiamo visto anche a livello demografico una diminuzione legata al minor lavoro che c'è in zona. Per quanto riguarda la criminalità, non abbiamo risultanze dirette, però è chiaro che il problema quando ci sono tanti disoccupati ci può stare. Maggiore, a livello umano cosa ne ha lasciato il duplice infanticidio della festività di Natale? Sono fatti in cui nessuno di noi vorrebbe mai partecipare, perché vedere due bimbe in quelle condizioni sono fatti che ti lasciano dei segni a livello umano. Sono tragedie che sono successe qua da noi, però sono tragedie che secondo me potevano accadere in qualsiasi parte d'Italia e direi del mondo. Quindi non focalizzerei l'attenzione da dire che è un fatto che è capitato a Gela perché Gela. È un fatto e una tragedia umana, al di là di tutto, che ha traumatizzato tutta la società civile e soprattutto di questa città. È una cosa in cui tutta la città si deve stringere a questa famiglia che ha subito questa tragedia per cercare di venirne fuori.